Sarebbe sufficiente in un'oca per dare alla sua prole il corpo di un ratto e produrre l'ornitorinco? Oppure sarebbe sufficiente per dare alla progenie di un ornitorinco la bocca ai piedi di un vero roditore e completare così in due stadi il passaggio dagli uccelli ai mammiferi? Ornitorinco o d'ornitosveglio? Questo è il vero problema. L'ornitorinco è davvero quell'essere arcaico elevato a organismo creato con i pezzi avanzati da madre natura dopo aver completato la creazione di tutti gli altri animali? No, miei cari più o meno verdi, non è questo il suo retaggio e minchimeno la sua identità. Non possiamo più stare nel periodo pre-darwiniano e il termine creazione non ha più il significato che aveva a quel tempo. Ornitorinco o d'ornitosveglio? Io direi più che altro ornito adatto. Vi racconterò la storia di un mammifero e anche quella di altri mammiferi conosciuti col nome di uomini che continuavano ostinatamente a dire che quel mammifero non potesse deporre uova sebbene la sua anatomia urlasse il contrario. Ma andiamo per gradi. L'Australia è, come sapete bene, la patria dei marsupiali. Ma oltre ai marsupiali sono presenti in questa grande isola anche i prototeri e con prototeri intendo monotremi e con monotremi intendo ornitorinco ed echidna. Ad un certo punto nel Mesozoico l'Australia ha cominciato a staccarsi dal grande continente denominato Gondwana ed è rimasta connessa al Sud America solo tramite un ponte formato dall'Antartide. L'Antartide poneva dei limiti al passaggio di animali e praticamente solo i marsupiali riuscirono ad arrivare in Australia unico luogo in cui non furono soppiantati dai placentati il gruppo di mammiferi a cui anche noi facciamo parte. Tutti i continenti tranne uno in realtà. Fuori dall'Australia resta infatti l'Opossum il marsupiale del Centro America che poi è riuscito ad arrivare anche al Nord America dopo la formazione dell'istmo di Panama e cioè il grande scambio americano dove avvennero delle migrazioni di animali dal Nord a Sud America e anche al contrario. Questo successe più o meno 3 milioni di anni fa. Anche i monotremi usarono il ponte antartico dati i fossili trovati in Sud America o forse nacquero in Sud America per poi colonizzare anche l'Australia e restarci. Fatto sta che quando i marsupiali arrivarono in Australia i monotremi erano già presenti questo però non li fece estinguere e sparire ma li fece adattare e specializzarsi in certe nicchie particolari questo portandoli con le dovute modifiche dai Cretaceo fino ad oggi. Attorno a 60 milioni di anni fa l'Australia cominciò a staccarsi definitivamente dall'Antartide per diventare quella che conosciamo oggi. L'essere una grande isola l'ha portata ad avere una fauna caratteristica fatta di marsupiali di animali importanti dall'uomo e poi in selvatichiti come l'ex cane dingo e fatta da monotremi. Ma perché l'ornitorinco era ed è tuttora un animale considerato primitivo? Beh, la primitività è già indicata dal nome del loro gruppo. Monotremi significa infatti con un solo orifizio. Questi animali sono dotati infatti di croaca un unico dotto dove afferiscono sistema escretore sistema riproduttivo e sistema digerente per poi sfociare all'esterno una caratteristica che ritroviamo in erettili e uccelli. Le femmine non sono dotate di utero e il loro ovario destro è vestigiale e lascia l'onere di fare gli ovuli solo a quello sinistro esattamente come negli uccelli. Il maschio ha il pene che è sito dentro la croaca ed esce allo scoperto solo quando deve entrare in azione. I primi esemplari di ornitorinco che arrivarono in Inghilterra erano stati presi come dei falsi e delle marionette fatte dagli abitanti dell'Australia. Poi i naturalisti cominciarono a capire che l'ornitorinco era un animale vero e cominciarono a studiarlo. Infatti, a inizio 1800 l'anatomia dell'ornitorinco era ben chiara ormai. Il problema è che non si parlava ancora di evoluzione a quel tempo e il costrutto mentale degli studiosi era un costrutto arcaico, creazionista e intento a catalogare tutti gli animali nella maniera più ordinata possibile. Questo li portava a storcere il naso nell'ammettere che un mammifero deponesse uova, sebbene le sue capacità riproduttive fossero ben chiare. Il problema è che non si erano ancora trovate le sue piccole uova. Gli studiosi si dividevano in chi sosteneva la viviparità, come la nostra, chi propendeva per l'uovo viviparità con le femmine che dovevano tenere le uova al loro interno e riassorbire il guscio per poi partorire i piccoli, e chi propendeva per le evidenze anatomiche, come la Marche, e che quindi diceva che l'ornitorinco non poteva che deporre uova. Meckel, grande anatomista tedesco, nel 1824 scoprì le ghiandole mammarie dell'ornitorinco, solo che erano diversissime dalle ghiandole mammarie di tutti gli altri mammiferi, cioè molto estese e senza capezzoli. Questo contribuì a gettare ancora più oscurità sulla discussione in merito all'ornitorinco. Geoffrey de Santillère, uno dei fondatori dell'anatomia comparata, era dalla parte dell'oviparità, però si rifiutava di ammettere che le strutture trovate da Meckel fossero delle effettive ghiandole mammarie. Ad un certo punto propose di sistemare i monotremi in un raggruppamento tassonomico indipendente allo stesso livello degli altri vertebrati, sostenendo che ficcare a forza i monotremi dentro i mammiferi fosse inutile, e fosse solo un modo per ordinare il tutto. In questo modo lasciava ai posteri l'onere di dover sistemare tassonomicamente nella maniera più corretta questi animali. Passarono ancora molti anni prima di trovare il bandolo della matassa. Questo successe nel 1884, quando un naturalista inglese mandò in madrepatria un telegramma con scritto Monotremi ovipari uovo meroblastico. Dopo un secolo di discussione, Caldwell aveva trovato le uova di Ornitorinco e queste erano meroblastiche, cioè dotate di un grande tuorlo, esattamente come quelle degli uccelli, ha una caratteristica primitiva. Da notare che tra l'inizio del discorso sull'ornitorinco e il ritrovamento delle uova, era spuntato Darwin e la sua teoria aveva reso possibile l'esistenza di forme intermedie e la compresenza di caratteristiche di diversi vertebrati sullo stesso animale. Troppe persone allora e ancora oggi considerano l'ornitorinco un animale arcaico o, ancora peggio, incompleto. Forse perché non si sapeva e non si sa come poteva essere avvenuta l'evoluzione del platipo o platipo. Non so quale sia l'accinto giusto. I progenitori dei monotremi si sono staccati dalla linea dei mammiferi molto anticamente, quando le caratteristiche tipiche dei mammiferi si erano appena formate, le plesiomorfie, e conservavano ancora molte caratteristiche rettiliane, molte delle quali sono state mantenute fino ad oggi. Questo perché evidentemente servivano alla sopravvivenza dell'animale e quindi sono state mantenute dalla selezione naturale. E che la linea si sia staccata anticamente non significa che l'animale sia primitivo. L'animaletto ha poi evoluto molte caratteristiche totalmente indipendentemente. Questo perché era segregato in Australia e quindi è partito dritto per dritto con l'evoluzione. Per esempio l'echidna è dotata di corteccia cerebrale, quella parte di cervello tipica dei mammiferi e che hanno solo loro, convoluta, esattamente come noi più o meno, e ci è arrivata da sola solo grazie alla selezione darwiniana. E l'ornitorinco è dotato del tanto famigerato becco che gli dà anche il nome, solo che non è minimamente comparabile a quello di Anatra, perché è il suo organo di senso più importante, quello che usa per trovare le prede sul fondo dei torrenti in cui vive. E questo becco è dotato anche di elettrolocazione, cioè riesce a percepire i campi elettrici delle sue prede e con questo riesce a scovare il cibo senza usare la vista. Ed è uno dei pochissimi animali che riesce ad usare questo senso. E no, non è l'anello mancante tra mammiferi e uccelli. O meglio, tra uccelli e mammiferi. Giusto perché gli anelli mancanti non esistono, come ci insegnano Gould ed Eldridge insieme a molti altri, molto bene. E come l'ornitorinco ha evoluto molte caratteristiche, anche gli studiosi dell'epoca hanno evoluto qualcosa dentro la loro mente e sono riusciti ad accettare che ci fosse un mammifero che deponesse uova. E secondo me, se non fosse arrivato Darwin, il diverbio sarebbe continuato ancora per molto, nonostante fossero state trovate le uova. Ma l'evoluzione è un fatto. E avviene senza volere su ogni cosa. Animale, mente, cultura, tecnologia. L'ornitorinco non è primitivo, ma è un animale supremamente costruito per un modo di vita particolare e insolito. Grazie dell'attenzione Verdastri. Questo video fa parte di Metamorfosi. Trovate tutte le informazioni in descrizione e la playlist con tutti i video alla fine di questo. Beh, restate in evoluzione perché chi si ferma è perduto e non può diventare sempre più verde. Grazie a tutti.